Zeller afferma che Senocrate dietò l'uso di cibo animale non perché vedesse nelle bestie qualche cosa di affine all'uomo in quanto attribuiva ad esse un'oscura coscienza di Dio ma per la ragione opposta temendo che l'irrazionalità dell'anima animale potesse esercitare una certa influenza sopra di noi. Ma noi crediamo che fosse piuttosto perché come Pitagora aveva avuto i saggi hindù come maestri e modelli. Cicerone ci mostra un senofane che tutto disprezza eccetto le virtù più alte e descrive l'immacolata e severa austerità del suo carattere. Egli afferma il nostro scopo è di liberarci dalla soggezione all'esistenza sensuale, conquistare gli elementi titanici nella nostra natura terrestre attraverso quella divina. La purezza anche nelle segrete aspirazioni dei nostri cuori è il maggior dovere e solo la filosofia e l'iniziazione ai misteri ci aiutano a raggiungere questo scopo. Crantore, un altro filosofo collegato con i primi tempi dell'Accademia Platonica, concepì l'anima umana come formata dalla sostanza primaria di tutte le cose, la monade o uno e la diade o due. Plutarco parla a lungo di questo filosofo che, come il suo maestro, credeva che le anime fossero distribuite nei corpi terreni come punizione ed esilio. Eraclito, sebbene alcuni critici non credano che abbia strettamente aderito alla primitiva filosofia di Platone, insegnava la stessa etica. Zeller ce lo presenta come insegnante, al pari di Iceta e di Ecfanto, della dottrina pitagorica, della rotazione diurna della terra e dell'immobilità delle stelle fisse, ma aggiunge che egli ignorava la rivoluzione annuale della terra attorno al sole e il sistema eliocentrico. Ma abbiamo avuto buone prove che questo sistema era insegnato nei misteri e che Socrate morì per ateismo, ossia per aver divulgato la conoscenza sacra. Eraclito adottò pienamente le concezioni pitagoriche e platoniche sull'anima umana, le sue facoltà, le sue capacità. La descrive come un'essenza luminosa ed altamente eterica. Afferma che le anime abitano la via lattea prima di scendere nella generazione o esistenza sublunare. I suoi demoni o spiriti sono corpi aerei e vaporosi. Nell'epinomide è pienamente sostenuta la dottrina dei numeri pitagorici in relazione con le cose create. Davvero platonico il suo autore è convinto che la sapienza può essere raggiunta solo attraverso un'inchiesta sulla natura occulta della creazione. Essa solo ci assicura un'esistenza felice dopo la morte. In questo trattato si specula a fondo sull'immortalità dell'anima ma il suo autore aggiunge che noi possiamo raggiungere questa conoscenza solo attraverso la completa comprensione dei numeri perché l'uomo incapace di distinguere una linea retta da una curva non sarà mai abbastanza sapiente per stabilire una dimostrazione matematica dell'invisibile. Ossia dobbiamo assicurarci dell'oggettiva esistenza dell'anima, corpo astrale, prima di imparare che possediamo uno spirito divino ed immortale. Giamblico dice la stessa cosa aggiungendo in più che si tratta di un segreto appartenente alla più alta iniziazione. Egli dice che il potere divino si sdegna sempre con coloro che rendono manifesta la natura dell'istagono, ossia che insegnano il metodo per iscrivere il dodecaedro nella sfera. L'idea che i numeri posseggano la massima virtù produce sempre il bene e mai il male. Si riferisce alla giustizia, all'equanimità del carattere e a tutto ciò che è armonioso. Quando l'autore parla di ogni stella come di un'anima individuale, intende solo dire quello che gli iniziati hindù e gli ermetici insegnarono prima e dopo di lui. Ossia che ogni stella è un corpo celeste indipendente, il quale, come la nostra terra, ha un'anima sua propria, poiché ogni atomo di materia è impregnato del divino influsso dell'anima del mondo. Esso vive e respira, sente e soffre la vita così come ne gioisce a suo modo. Quale naturalista è pronto a negarlo con le prove in la mano? Dunque noi dobbiamo considerare i corpi celesti come le immagini degli dèi in quanto partecipano dei divini poteri nella loro sostanza e sebbene essi non siano immortali nella loro entità anima, la loro azione nell'economia dell'universo è degna di onori divini quali noi tributiamo agli dèi minori. L'idea è semplice e bisogna essere davvero in mala fede per snaturarla. Se l'autore di Epinomis pone questi dèi ignei più in alto degli animali, delle piante e perfino dell'uomo, che come creature terrene sono posti da lui su di un piano inferiore, chi può dimostrare che ha completamente torto? Bisogna davvero addentrarci nelle profondità della metafisica astratta degli antichi filosofi per capire che le varie incorporazioni delle loro concezioni sono dopotutto fondate su un'identica comprensione della natura della causa prima, dei suoi attributi e del suo metodo. Egualmente, quando l'autore di Epinomide colloca fra questi dèi superiori ed inferiori, anime incarnate, tre classi di demoni e popola l'universo di esseri invisibili, è più razionale dei nostri scienziati moderni che pongono fra i due estremi un vasto iato, terreno di gioco di forze cieche. Di queste tre classi le prime due sono invisibili, i loro corpi sono puro etere e fuoco, spiriti planetari. I demoni della terza classe, rivestiti di corpi vaporosi, sono usualmente invisibili ma talvolta, rendendosi concreti, diventano visibili per pochi secondi. Essi sono gli spiriti terreni o le nostre anime astrali. Queste dottrine, studiate analogicamente e in base al principio di corrispondenza, portano gli antichi, e possono oggi portare il moderno filalete, a passo a passo, verso la soluzione dei massimi misteri. La scienza moderna sta sull'orlo del buio abisso che separa il mondo spirituale da quello fisico, con gli occhi chiusi e la testa rivolta, affermando che il baratro è invalicabile e senza fondo, sebbene tenga in mano una torcia che le basterebbe abbassare nella profondità per capire il suo errore. Ma il paziente studioso della filosofia ermetica ha costruito un ponte attraverso l'abisso. Nei suoi frammenti di scienza, Sindal fa la seguente triste confessione. Se mi chiedete se la scienza ha risolto o è oggi sulla via di risolvere il problema di questo universo, devo scuotere dubbiosamente la testa. Quando, mosso da un ripensamento, più avanti si corregge e assicura il suo pubblico che la prova sperimentale lo ha aiutato a scoprire nella materia tanto screditata la promessa e il potere di ogni qualità di vita, in realtà scherza soltanto. Sarebbe non meno difficile per il professor Tindal offrire una decisiva ed irrefutabile prova di quel che afferma, di quanto fosse per Giobbe conficcare un arpione nella gola del Leviatano. Per evitare le confusioni che potrebbero facilmente sorgere dal frequente impiego di termini in senso diverso da quello familiare, al lettore saranno utili poche spiegazioni. Non vogliamo lasciare pretesti per equivoci o false interpretazioni. La parola magia può avere un significato per una classe di lettori e un altro per un'altra classe. Noi le daremo il significato che hanno elementi dei suoi studiosi e praticanti orientali e così pure per le parole scienze ermetiche, occultismo, ierofanta, adepto, mago eccetera. Da qualche tempo vi è poco accordo sul loro significato. Sebbene le distinzioni fra termini siano spesso insignificanti e puramente etniche, tuttavia può essere utile per il lettore sapere in che cosa consistano. Ne presentiamo alcune in ordine alfabetico.